Andro Piccinelli, anche oggi una grandissima prestazione, c'era un obiettivo da centrare che era quello dell'imbattibilità e 3-0 infatti che si commenta da solo. Sì, siamo entrati in campo molto concentrati, molto determinati, sia in fase di cambio palla che in fase di break, con una grande opportunità, siamo riusciti a mettere la palla per terra, quindi questo è un ulteriore step in più per le partite che da adesso in poi ci aspettano nella fase calda della stagione. Sì, proprio qui volevo arrivare, i play-off anche nel primo turno, a differenza degli altri anni, sarà il meglio delle cinque partite, probabilmente sarà Milano l'avversario perché non si è ancora confusa la partita, ma la strada è quella del 3-0, ti chiedo che serie prevedi? Sì, sicuramente saranno tutte sfide dolce, sfide importanti, sarà dura i play-off, lo sappiamo bene, sono un altro campionato, quindi quello che è stato fatto fino adesso si perde come benzina per poi arrivare pronti a questi eventi importanti della stagione. Benzina anche per mercoledì che c'è un intermezzo abbastanza importante che è quello della Champions. Molto importante, non abbastanza, perché è una partita fondamentale per noi per bastare in semifinale, quindi noi entreremo concentrati e determinati per raggiungere quello step in. Grazie, ciao.